Sono Sor Marcelita Sabugaa, membro della Congregazione delle Suore Missionari di San Carlo Borromeo Scalabiniani. La nostra missione è fornire cure pastorali ai migranti e ai rifugiati. Io sono originaria delle Filippine e attualmente mi occupo di attività missionari a Roma. Nella realtà odierna, le immigrazioni sono diventate un'emergenza globale. Per meglio rispondere alle necessità dei migranti e preparare le sorelle più giovani all'opera missionaria e alla leadership, la nostra congregazione sente l'esigenza di stabilare una presenza più concreta e efficace delle suore missionari scalabiniani in Asia. A maggio 2018, il nostro istituto religioso terrà un programma di formazione e di leadership a Manila nelle Filippine. La mia presenza e spero il vostro contributo costituiranno un grande incentivo all'evento per la futura missione in Asia. Con questo messaggio, busso alla porta del vostro cuore per chiedervi di aiutarci a rilassare le nostre attività missionarie grazie al vostro sostegno finanziario. Il vostro contributo e la vostra generosità renderanno possibile questa missione e questo sogno. Grazie Grazie